Viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria. In diretta, oggi su TV 2000, alle 11, speciale Il Diario di Papa Francesco. E a seguire, visita di cortesia alla Presidente della Repubblica e incontro con il Primo Ministro. Alle 12.20, incontro con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico. Alle 16, speciale Il Diario di Papa Francesco. E a seguire, incontro con i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, le Consacrate, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali.